Sono molto contento di poter dare il via, seppur virtualmente, a questa inedita edizione del Biography Festival. Inedita per le modalità con cui l'avete organizzata e avete fatto molto bene comunque a organizzarla, anche riuscendo a garantire che possa arrivare direttamente a tantissimi appassionati. Ho sempre partecipato in questi anni alle inaugurazioni e anche ad altri appuntamenti del Biography Festival, festival che negli anni è cresciuto diventando un appuntamento imperdibile e di valore a livello internazionale. Siamo molto contenti come Regione Emilia-Romagna di poter sostenere un festival di questo livello e di questa qualità e soprattutto vogliamo dirvi che non vi lasceremo soli, non lasceremo soli il comparto del cinema e quello della cultura perché io credo davvero che cultura e bellezza saranno quelle che ci permetteranno di salvarci e di salvare il pianeta. Vogliamo guardare con fiducia al futuro pur in una situazione così difficile e per certi aspetti drammatica per quello che abbiamo vissuto e dobbiamo ancora vivere, ma non abbandoneremo un settore del quale si parla troppo poco e che però per questa regione è assolutamente centrale e vitale. Peraltro da queste parti cultura significa qualità della vita.